Ciao, sono Jean-Pierre, il ragazzo delle rose, creatore della collezione di rose EXTROSE. Se anche tu sei un appassionato di rose, sei un appassionata di rose, o un fiorista, o un produttore di rose, un appassionato in generale dell'arte floreale, beh qui troverai una tecnica che non c'è in nessun post, nessun libro, su internet, nessun video youtube, non c'è nulla che spiega perfettamente, dettagliatamente e semplicemente come poter fare questa meravigliosa tecnica floreale, come poter immortalare la bellezza delle rose con una grazia e con un suo fascino ancora più evidenziato. Io sono Jean-Pierre, il ragazzo delle rose, come ti dicevo, e ho una storia floreale di circa 22 anni, da quando ero bambino sono sempre stato appassionato di rose, portavo a mia mamma le rose, quando andavo in campagna con mio padre portavo una rosa in omaggio sempre a mia mamma e lei mi ringraziava e io probabilmente mi è rimasto dentro questo gesto, questo simbolo di questo momento passato di infanzia e adesso mi ritrovo dopo 22 anni, ho iniziato quando avevo 21 anni, mi ritrovo ancora nell'ambito dei fiori e specialmente della rosa, perché per me la rosa è il fiore per eccellenza, secondo me è diventato un simbolo, è un simbolo, è il simbolo della bellezza, è il simbolo dell'universo e questo fiore purtroppo ha il problema che si appassisce abbastanza velocemente, quindi addirittura molte persone credono che la rosa duri un giorno, mentre invece c'è la possibilità di farla durare anche due settimane se non oltre, poi dipende dal periodo, se fa caldo, se non fa caldo, comunque il mio scopo era quello di immortalare, di rendere la rosa sempre più resistente, durevole nel vaso, nei vasi, nelle composizioni e questo mi ha spinto poi successivamente quando ero entrato già nel mondo floreale, a conoscere tante persone, nello stesso tempo un giorno mi è capitato proprio di sentire da una signora di come si fanno le rose di cera e io non l'avevo mai sentito, mi sono incuriosito e ho cominciato da quei spunti che mi diede quella signora, ho cominciato a creare le mie rose di cera con i fornelletti, sono andato a comprare, io sono sempre stato un po' un alchimista, mi chiamavano MacGyver perché ero molto creativo, anche tecnico ma creativo, miscelavo bene le due parti, la creatività e la tecnicità e questo mi ha portato infatti a creare delle cose unendo delle cose che apparentemente non hanno una logicità, adesso ti sembrerà un po' particolare questa cosa, chissà perché ti dico questo, semplicemente perché poi vedrai quando ti farò vedere come fare le rose di cera e quello che ho utilizzato per fare le rose di cera, capirai perché ho miscelato delle cose che non centrano nulla con loro, però il risultato è spettacolare, comodo, pratico, rende tutta la pratica tecnica dell'immersione nella rosa, della cera, della temperatura, il controllo, tutto molto più semplice di come si potrebbe fare o come si fa o comunque fanno tendenzialmente qualcuno con fornelletti, con gas, metodi tradizionali, io invece ho trovato un bel mio trucchetto, trucchetto, un piccolo grande segreto che secondo me è stato pure una delle mie difficoltà nel poter mantenere questo segreto, ma non perché volevo tenermelo per me, perché? Perché secondo me doveva essere promulgato in un modo molto più approfondito, non volevo che i miei trucchetti, che i miei segreti andassero così in giro senza avere una logica, senza essere organizzati, poi però le ho voluto fare una cosa seria, un corso, un videocorso in questo caso, dove il vantaggio è notevole, oltre al fatto che sarà spiegato dettagliatamente, c'è il vantaggio di potertelo rivedere quando vuoi e di poterti immedesimare meglio, entrare meglio perché io ti farò vedere come farò proprio praticamente mentre le faccio, tu vedrai quali sono i miei movimenti, quali sono i gesti, qual è la tecnica, video dopo video seguirai questo schema che è molto semplice, sono 5 passi, in questi 5 passi scoprirai come poter seguire, come poter fare logicamente tutti i movimenti, tutti i passi, tutte le sequenze per creare queste rose di cera prima di tutto in sicurezza, quindi il primo video sarà per descriverti il piano di lavoro, la sicurezza, quindi poi ci sarà tutto l'elenco dei materiali, successivamente c'è la parte proprio della lavorazione, la parte centrale dove vai proprio a immergere la rosa, quindi il procedimento della ceratura della rosa, quindi il procedimento verrà susseguito poi dalla parte della rifinitura, il raffreddamento e poi vediamo c'è il confezionamento, ci sono anche le altre, poi vedrai ci sono dei bonus che insomma adesso non ti sto qui a dire, ti voglio fare una sorpresina e quindi poi scoprirai bene come poter fare le tue rose di cera, mi raccomando adesso seguimi bene, nel prossimo video comincerai a vedere quali saranno i tuoi primi passi da fare per poter iniziare a fare le tue rose di cera, per stupire tutti quelli che vedranno poi le tue composizioni, per arricchire la tua clientela, per dare qualcosa di esclusivo ai tuoi clienti che magari conoscono già te come un creativo, quindi sanno che tu ti tieni sempre un creativo o creativa, io adesso dall'altra parte so che ci sono uomini a donne, se non esprimo uomo o donna comunque mi capisci se ti parlo, tanto per dare un soggetto maschile e femminile, io vorrei parlare a tutte e due, quindi non ci sono problemi, penso che mi capirai, quindi a volte farò per te lei e per lui, quindi adesso sei impaziente sicuramente di vedere come procediamo, i prossimi video parleranno di come si fanno le rose di cera inizialmente con il piano di lavoro, organizzare tutto il banco della ceratura e proseguire poi pian piano, passo dopo passo per andare a vedere quale sarà il risultato finale di questa meravigliosa tecnica. Ti voglio ringraziare perché hai acquistato questo videocorso, sicuramente non ti deluderò perché troverai delle bellissime cose dentro questo mio videocorso, trucchi, segreti, che ti permetteranno di diventare sempre più autorevole nel tuo lavoro, sempre più apprezzato per le tue creazioni e ti si ricorderanno anche meglio quando magari ci saranno degli anniversari, delle ricorrenze, delle festività, quindi adesso passiamo al prossimo video che parlerà proprio di come organizzare il banco di lavoro, io qui adesso ho quasi nulla, ho cominciato a preparare delle rose, stiamo facendo le rose di cera insieme, queste sono le rose che verranno cerate, qui ci sono le altre e intanto ti voglio far vedere queste rose cosa sono, eccole qua, che dici saranno interessanti? Interessanti, faremo tutte queste qui, le faremo tutte rose di cera, le faremo di tutti i colori e faremo veramente vedere delle cose meravigliose ai nostri clienti, ai nostri amici, ai nostri familiari, a coloro che veramente vogliono vedere qualcosa di particolare, bene, detto questo vi lascio, ti lascio, ciao a te e ci vediamo nel prossimo video, mi raccomando, prenditi un po' di tempo e guardatelo con comodo, ok? Ciao, ciao, ciao!